Sarà la Didia di Bari a proseguire le indagini sull'omicidio di Girolamo Valente avvenuto a Biceglie nella giornata dell'8 agosto scorso in Via Ruvo. La ricostruzione dei carabinieri coordinati dal magistrato della procura di Trani Mirella Conticelli è avvenuta anche grazie ai filmati raccolti dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. A bordo di una moto di grossa cilindrata risultata rubata circa un anno fa, i due sicari coperti da caschi integrali hanno esploso numerosi colpi con una mitraglietta. Evidente il metodo mafioso che non ha risparmiato neanche la moglie di Valente raggiunta da numerosi colpi e miracolosamente viva. Il delitto come propendono gli inquirenti potrebbe essere nato in ambienti della mala per la lotta e il controllo del traffico di stupefacenti. In particolare sembrerebbe essere collegato all'omicidio di Matteo De Gennaro il 25enne ucciso due mesi fa sempre a Biceglie nei pressi della stazione ferroviaria. Un colpo alla testa e diversi giorni di agonia sino al decesso in ospedale. Gli inquirenti seguono la pista del collegamento per i due omicidi.